Buongiorno a tutti, benvenuti alla resegna stampa di oggi, martedì 7 marzo 2017, questa è Fano TV e siamo in diretta alle 7.30 di questa mattina, la mattina che si apre con una giornata davvero autunnale, lo vedremo tra poco con le previsioni del tempo, una giornata che sarà quindi all'insegna del maltempo, della pioggia, del cielo cupo e grigio. Ma vediamo il santo di oggi, allora il santo di oggi è sante perpetua e felicità, il sole è sorto alle 6.33, tramonterà 5 minuti dopo le 6 di oggi pomeriggio. Vediamo il tempo, dicevamo, guardate le immagini della grafica della protezione civile, questo è il bollettino per oggi, ci sono le nevicate addirittura sull'Appennino, ebbene avremo cielo nuvoloso con diminuzione soltanto da questa sera della nuvolosità a partire dal nord della regione. Oggi la giornata sarà caratterizzata da rovescio temporali diffusi, prima sul Pesarese, poi in transito sul resto della regione nel corso della giornata. I fenomeni si esauriranno nel pomeriggio a cominciare proprio dal settore settentrionale, ma attenzione perché avremo delle accumulate abbondanti nelle zone dell'entroterra, i fenomeni saranno anche localmente intensi, il limite delle nevicate sarà intorno agli 800 metri, con accumuli di neve anche significativi, oltre i 900.000 metri. Le temperature sono in diminuzione, i venti moderati settentrionali con raffiche, fino a Burrasca, in particolare lungo la costa e Burrasca forte lungo il crinale Appenninico. Poi invece domani cambia lo scenario perché il maltempo, come dicevamo, scivola via giù giù verso sud, domani avremo, vedete, ultime piogge nella parte meridionale della regione, ma stiamo parlando della tarda mattinata, poi il tempo migliora, le temperature sono in aumento e guardate giovedì 9 marzo, vedete giovedì c'è cielo sereno su tutta la regione con temperature in aumento e qui avremo addirittura un assaggio di primavera ancora più spinto con temperature che saranno ancora in aumento, il tempo sarà stabile fino alla giornata di sabato. Allora, cari amici, vediamo subito i giornali invece, i giornali per quanto riguarda la giornata di oggi, il resto del carino, il Corriere Adriatico, in edicola, nelle vostre edicole di fiducia, chiaramente non possiamo leggere i giornali di tutta la regione Marche, tutte le testate della regione Marche e quindi ci limitiamo come sempre, come abbiamo fatto in questi ultimi anni, 11 anni sulle testate del carino, il Corriere, le edizioni di Pesaro e questo è il resto del carino di Pesaro che in apertura pubblica la foto che riguarda la notizia dei controlli del sabato sera, i controlli soprattutto per prevenire le stragi, gli incidenti di coloro che si mettono alla guida ubriachi. L'ebrezza del sabato sera, troppi ubriachi al volante, c'è chi prende la rotatoria a contromano in due pagine, il resto del carino questa mattina fa il bilancio dei controlli con i carabinieri. Poi si parla dei profughi, i profughi ognuno prenderà i suoi, saranno ospitati in base alla popolazione, c'è questo nuovo bando della prefettura di Pesaro per 1302 posti, ecco quanti verranno ospitati per ciascun comune. Poi Pesaro, Pesaro che sapete fa la lotta, ormai ha avviato questa lotta contro i mendicanti, quelli che chiedono i soldi per strada, giro di vite del sindaco ma ci sono i dissidenti e ci sono dei dubbi anche all'interno del Partito Democratico che è proprio il partito espressione del sindaco Ricci. Fano, occhio invece al semaforo rosso, al semaforo perché il semaforo fa la spia, due telecamere sono state installate sulla statale, già più di 500 multe da 190 euro. Allora andiamo proprio sulla pagina di Fano del resto del carlino per vedere innanzitutto quali sono questi due semafori, ma molti li avranno già notati, sono degli scatolotti messi sopra dei tralici, dei pali sulla statale per andare verso Pesaro, probabilmente avete riconosciuto anche la fotografia. Ebbene, il semaforo della statale Filma, chi passa con il rosso, dicevamo che già sono state elevate 500 multe da 190 euro, il sistema si chiama Autostop e sono posizionati negli impianti di Viale Primo Maggio. Grazie a questo sistema la Polizia Municipale di Fano ha rintracciato anche un'auto pirata. E qui vedete l'operatore di polizia che controlla il computer, proprio un'immagine che controlla di controllo del monitor, mentre qua a lato invece il comandante della Polizia Municipale di Fano, Giorgio Fuligno. Tra le novità scritte, e troverete tutto sul giornale di questa mattina, c'è anche questa che dal primo di maggio, per esempio, la colonnina dei ticket per la sosta a pagamento di via Mura a Malatestiane, erogherà anche i permessi per entrare nella zona traffico limitato per tutto il centro storico. Quindi non sarà più necessario andare fisicamente dai vigili urbani, ma basterà prendere questo ticket, questo permesso, direttamente nella colonnina che si trova in via Mura Malatestiana. Dunque un ottimo servizio, direi, per risparmiare soprattutto tempo. Allora, andiamo a vedere invece, sempre parlando di viabilità cittadina, vediamo la pagina 13 del resto del canino di questa mattina, perché c'è il report del Comune sulla mobilità urbana a Fano. E ci sono tutta una serie di numeri, anche molto interessanti, che vi danno un'idea un po' di come funziona, di come va e di come gira un po' la situazione tutti i giorni nella nostra città, quindi gli autoveicoli che entrano e che escono in città, quanti sono, quanti non sono, quanti sono i pendolari che vanno al lavoro, dove si spostano, come si spostano. Insomma, c'è una fotografia molto interessante sulla mobilità urbana che troverete sulla pagina di oggi del resto del canino. Il titolo, più incidenti, più veicoli, meno autobus e ciclisti rischiano la vita in via Gramsci. Infatti, da questi dati emerge che la Statale Idriatica e la Flaminia sono le strade più pericolose che ci sono a Fano, cioè quelle maggiormente a rischio per i ciclisti. Quelle maggiormente a rischio per i ciclisti sono invece via Roma, via le Gramsci e via le Buozzi. Dunque, la Statale Idriatica e la Flaminia per gli automobilisti, mentre per i ciclisti sono via Roma, via le Gramsci e via le Buozzi. Quelle invece più a rischio per i pedoni sono via Gabrielli e via Pertini. E tra l'altro, il resto del canino questa mattina ha intervistato anche un ragazzo di 27 anni che dice, io devo fare necessariamente in bicicletta via Papiri, via Campo d'Avenza, è un'esperienza da brivido e lo sappiamo bene perché spesso purtroppo vi raccontiamo anche di fatti di cronaca come l'ultimo che ha perso addirittura una gamba, un anziano che ha perso la gamba mentre era in bicicletta e stava andando appunto in via Campo d'Aviazione e è andato contro un camion. È l'ultimo incidente grave che abbiamo registrato e che vi abbiamo raccontato proprio su questa lunga arteria che è davvero molto pericolosa e chissà se davvero lì si può realizzare qualche cosa anche per coloro che vanno sulle due ruote. A Urbino invece nel centro storico ci sono i titolari di un negozio di ottico, di occhiali, che sono esasperati perché? Perché anche recentemente sono di nuovo entrati i ladri, ladri scatenati da Arceci, dove sono le telecamere cittadine? Chiedono i titolari appunto rubati occhiali per 25 mila euro e pensate il colpo, quindi si deduce che sono dei professionisti, il colpo è stato messo a segno in soli due minuti. Allora queste sono le fotografie, guardate, prima, forse hanno sbagliato, cioè questo è il primo immagino e questo è il dopo perché qui non ci sono più gli occhiali e quindi guardate come hanno ridotto questo negozio e questo è il fotogramma del ladro, eccolo qua, il fotogramma del ladro in azione, anzi dei ladri in azione, hanno fatto un colpo rapidissimo, due minuti e hanno portato via tutti gli occhiali. Poi, sempre per quanto riguarda la cronaca, a Fossombrone perseguita l'amante ed è finito sotto processo. Un forsembronese non sa darsi pace per una storia d'amore che è finita, la storia si trascina dal 2008 quando i due si conobbero, lei ora ha anche un bambino, il reato è quello di Stolking, c'è tutto il racconto con i particolari ripresi appunto dal processo e che sono stati sintetizzati da Elisabetta Rossi questa mattina sul resto del Carlino. Sotto invece da Cagli sono le immagini, siamo in quaresima e i paesi si preparano, stanno già preparando le rievocazioni storiche per appunto Via Crucis e quant'altro. Ebbene a Cagli questi giorni sono in corso riunioni per programmare queste manifestazioni durante le festività pasquali. Oltre alla tradizionale processione del Venerdì Santo c'è adesso la Ciurma, una rappresentazione in costume con vari protagonisti fino alla salita lungo una stradina illuminata da torce fino al colle del Calvario. E poi, sempre dai quotidiani di oggi, andiamo adesso sul Corriere Adriatico, questa è la prima pagina. La prima pagina è per la violenza sulle donne. Dati shock, quasi un episodio a settimana. Sette casi sono nel 2017. La questura, non abbiate paura, uscite allo scoperto. Poi a centropagina la fotografia è con gli stranieri che credono nelle marche da Whirlpool. Dopo le acquisizioni, gli investimenti nei nostri siti produttivi, oltre 45 milioni per il rilancio della produzione industriale. La pagina di Fano invece è per il nido e l'infanzia, parliamo quindi di scuole. Ecco il primo difficile impatto con il mondo. Come gestire la fase educativa fino a sei anni? C'è stato questo confronto, un incontro ieri pomeriggio nel Sala della Concordia, tra politica, sindacato e maestre. Smog e incidenti. Questo è il report che abbiamo visto anche poco fa sull'altro quotidiano sulla viabilità, la mobilità urbana, che secondo il Corriere è da rivedere. Ogni giorno in città 34 mila pendolari. Lo studio mostra un afano in movimento, previsti interventi sui flussi di percorrenza e corse degli autobus. Mentre ai Colli al Metauro, a Calcinelli, gli intrusi che sono entrati in una scuola per rubare spiccioli e computer, svaliggiato il distributore automatico, quello che distribuisce le bevande, e trafugato un PC portatile. È successo nella scuola primaria Lugli e la scuola dell'infanzia Collodi, in via Marconi, appunto, a Colli al Metauro. Calcinelli. Poi, per il taglio dei contributi, ora rischiano i dirigenti e questo è un problema. Quali dirigenti? Quelle delle associazioni dove vanno i nostri figli. C'è una realtà molto importante affano di associazionismo sportivo e purtroppo il Comune ha deciso, in maniera drastica, di, non avendo nel bilancio disponibilità sufficienti per erogare questi contributi alle società sportive, ha deciso di effettuare dei tagli. Ebbene, per esempio, c'è questo caso raccontato dal Corriere questa mattina, il caso del Real Gimarra, per il nuovo campo. Il nuovo campo ha dovuto prendere questo prestito bancario garantito da tutto il direttivo. E non è la prima volta che si sente dire che questi dirigenti, pur di far giocare questi ragazzini, pur di tenerli aggregati, e qui davvero dovremmo aprire una pagina che non finisce più per dirvi quanto è importante lo sport, meglio su un campo da calcio, su un campo da volley, su un campo da beach, insomma, piuttosto che in giro a non far niente e a far danni. Però il problema è sempre di soldi. C'è questo taglio dei contributi destinati alle società sportive e dilettantistiche cittadine di Fano, che potrebbe avere pesanti ripercussioni sia sulle società stesse che sulle famiglie dei componenti di alcune dirigenze che negli ultimi tempi si sono impegnati con investimenti importanti per proseguire le attività. Quindi hanno acceso mutui dando garanzie personali. 40 anni dell'Alma Juventus con i genitori di Pantani, invece parliamo di ciclismo, ciclismo fanese, presentate le squadre del 2017, la festa del Sodalizio dedicata alle premiazioni. C'erano anche appunto i genitori del Pirata, l'indimenticato Marco Pantani, la mamma Tonina e il babbo Paolo in questa fotografia, un momento di questa festa. Banda ultralarga invece, andiamo sulla pagina della Valle del Cesano, parliamo di internet, quindi di web e soprattutto di velocità, perché qui quando la banda non è ultralarga ma è stretta, poi si rallenta il lavoro e tutta la produzione va rilento. Ebbene a Mondolfo c'è questo cablaggio previsto nel 2018, quindi la stesura probabilmente dei cavi, il programma della Giunta Barbieri inserito nella fase 1 del progetto regionale e con un rilevante intervento pubblico almeno 51 chilometri saranno di fibra ottica. Uffici comunali chiusi invece sempre a Mondolfo anche questa mattina, nel capoluogo il municipio non sarà accessibile il martedì ed il giovedì per metà giornata. Dunque c'è questa revisione del piano di apertura al pubblico degli uffici comunali, gli uffici di Mondolfo restano completamente chiusi al pubblico anche oggi. Una chiusura aggiuntiva del martedì mattina che va a sommarsi a quella del martedì pomeriggio e del giovedì mattina, già ereditate dalla precedente amministrazione. Passaggio a livello da chiudere, a Marotta invece, le ferrovie avviano gli espropri, c'è questa comunicazione al Comune, l'Associazione attraverso Marotta attacca il Sindaco, i proprietari hanno pochi giorni per le osservazioni e si domandano dov'è la trasparenza. Allora, sul futuro sottopasso di Piazza Roma a Marotta si era consumato un duro scontro tra la loro maggioranza di centrosinistra guidata dal Sindaco Pietro Cavallo e l'opposizione di progetto comune contraria al progetto di rete ferrovie italiane. Anche l'Associazione attraverso Marotta fin da subito si era espressa in modo contrario alle opere compensative previste e questo è il passaggio a livello che ormai conosciamo tutti e che si trova sulla statale. Andiamo adesso velocemente sull'altra pagina del Corriere da Senigallia. Neonata morta, blitz nel reparto, sequestrate le cartelle cliniche, la Polizia acquisisce la documentazione di mamma e bimba, la Procura apre un'inchiesta. Il pubblico ministero Andrea Laurino della Procura della Repubblica di Ancona ha aperto ieri un fascicolo a carico di ignoti disponendo l'autopsia sul piccolo corpicino che verrà eseguita salvo imprevisti. Domani gli atti del magistrato sono scattati dall'esposto che è stato presentato alla Polizia dai genitori, una coppia italiana di origini pugliesi trasferitasi di recente a Senigallia, entrambi hanno meno di 40 anni. La stretta di Matteo Ricci invece sul, e siamo a Pesaro, sull'accattonaggio sarà vietato anche in tutta la zona del mare di Pesaro, ma nello stesso tempo il Partito Democratico è in fibrillazione, ci sono frizioni, siamo la città della solidarietà, non possiamo essere così. Insomma, però il sindaco replica e dice è sbagliato a costare welfare e abusivismo, il centrodestra invece appoggia, gli ausiliari invece sempre da Pesaro potranno multare le auto in doppia fila, il Consiglio Comunale dà via libera all'aumento dei poteri, poteri dunque più forti per gli ausiliari del traffico che oggi si limitavano semplicemente a controllare più o meno la sosta, ebbene adesso se ci sono le auto in doppia fila potranno elevare anche loro delle contravvenzioni. È tutto per la rassegna stampa di oggi, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che la nostra redazione, la redazione di Fano TV, Occhè la Notizia è a vostra disposizione per ricevere le vostre segnalazioni, potrete inviarci al numero 338 4968 250, utilizzando Whatsapp potete inviarci foto, video, messaggi di testo, su tutto ciò che accade e che vi capita sotto tiro, sotto mano, sotto occhio, quindi non abbiate tranquillamente, inviateci pure le segnalazioni, poi noi naturalmente le verificheremo e se è necessario le faremo vedere nel telegiornale, le inseriremo in scaletta nel telegiornale della sera, quello delle 20 e 30, e quindi ci vediamo stasera, 20 e 30, canale 17 di Fano TV, arrivederci. Grazie a tutti.